cari amici voglio proporvi oggi la storia dell'antica diocesi di brugnato che per quattro secoli per oltre quattro secoli governò tra le altre anche le parrocchie di sesti levante di casanza ligure vi parlerò anche delle circostanze che favorirono il legame di questa parte della riviera con brugnato e anche del singolare commento che nell'ottocento i fratelli remondini avanzarono nei confronti di questa unione la diocesi nacque nel 1133 con bola del pontefice innocenzo secondo che trasformò l'antica abbazia di brugnato e inglobò nella nuova diocesi i beni dell'abbazia stessa facendo di idel brando l'ultimo abate e il primo vescovo l'abbazia era stata eretta verso la fine del settimo secolo si pensa dall'abbazia di bobbio anche per la comune consacrazione ai santi pietro e colombano e aveva da subito iniziata ad estendere i propri possedimenti per le ripetute donazioni ricevute prima dai longobardi e poi successivamente dai franchi in gran parte diciamo della sponda sinistra del fiume vara contrapponendosi così alla forte autorità del vescovo e conte di luni nel decimo secolo prese a delinearsi la caratteristica forma a pianta circolare del centro storico di brugnato quando si cominciarono a costruire edifici tra loro contigui e attorno al complesso abbaziale per continuare le costruzioni poi verso occidente con le case a schiera lungo la strada e far assumere al borgo la caratteristica forma tenaglia che oggi fa di brugnato un centro storico di notevole interesse certamente da visitare l'abbazia per le donazioni raggiunse in breve tempo notevole rilevanza e fu dichiarata strettamente e direttamente soggetta alla santa sede diventando uno dei primi tasselli del potere temporale del papa immune dall'autorità del vescovo di luni sino dalla sua fondazione l'abbazia di brugnato come anche altri monasteri che sorsero nell'alto medioevo fornì tutela alle comunità dei contadini agli abitanti della foresta e assistenza sicuramente ai pellegrini ai mercanti e viandanti e accrebbe nel tempo le proprietà immobiliari non fu solo un luogo di raccoglimento e di preghiera ma stimolò l'attività agricola e favorì la creazione di celle monastiche con la costruzione di cappelle sul proprio territorio tutte le chiese tutti i castelli e le ville che dipendevano dal cenobi al momento della costituzione dell'episcopato brugnatese erano subordinati in gran parte alla diocesi di luni e in minor misura quella genovese la circoscrizione della nuova diocesi si andò ad insinuare tra quelle di luni e quella di genova e la scarsa compattezza territoriale traeva origine proprio dal patrimonio monastico che si era costituito nel corso dei secoli la nuova diocesi fu una novità dal punto di vista istituzionale perché nacque su una base moderna non fondandosi più sul sistema delle vecchie delle pievi ma sul legame di tipo parrocchiale tra il vescovo e le chiese la costituzione della diocesi di brugnato che fu posta sotto la giurisdizione di genova e motivazioni di carattere politico infatti tra le repubbliche marinare di genova e di pisa all'inizio del dodicesimo secolo era in atto un conflitto pisa poi nel 1119 era diventata sede arci vescovile mentre genova era rimasta solo sede vescovile soggetta all'arcidiocesi di milano nella pace tra le due repubbliche la pace fu anche favorita dall'intervento del papa inoscenzo secondo che tra le altre cose elevò l'arcidiocesi genova dotandola di cinque suffraganee tre diocesi in corsica oltre appunto a brugnato e a bobbio nel 1519 mentre vescovo di brugnato era filippo sauli vi fu una permuta di parrocchie tra genova e brugnato in base a tale permuta brugnato cedette a genova tra l'altro castiglione chiavarese velva missano tavarone lago porciorasco e deve però in cambio sesti levante sorlana nascio verici statale arzeno libiola casarza ligure con particolari riferimento al territorio di sesti levante furono assegnate a brugnato l'antica chiesa pievana di santo stefano del ponte san bernardo delle cascine santa margherita di fossa lupara san nicolo dell'isola santa maria di nazareth san bartolomeo della ginestra nella giurisdizione della diocesi di brugnato si ebbe un'altra variazione nel 1797 quando alcune parrocchie passarono sotto la giurisdizione della diocesi della nuova diocesi di pontremoli che era nata dallo smembramento della diocesi di luni sarzana infine dopo oltre sette secoli di autonomia nel 1820 la diocesi di brugnato fu unita a partire da quella data in modo permanente a luni sarzana il papa pio settimo su istanza del re vittorio emanuele sancì l'unione delle due diocesi che erano che furono definite entrambi ugualmente importanti sotto un unico vescovo approfittando della vacanza che era ormai decennale della sede a causa della morte del vescovo giovanni luca solari l'unione fu anche determinata dalla povertà della mensa vescovile che non consentiva il mantenimento del vescovo e anche dall'eseguità degli abitanti fu monsignor pio luigi scarabelli nominato vescovo di luni sarzana ricevere anche l'amministrazione della diocesi di brugnato che restò su fragania della sede metropolitana di genova mentre invece quella di luni sarzana era soggetta alla santa sede infine nel 1929 con la bolla di papa pio undicesimo fu eretta la nuova diocesi di la spezia e unita con le antiche circoscrizioni vescovili di luni sarzana e brugnato quando è che appunto brugnato poi perse il vicariato di seste levante bene mille nell'ottobre del 1959 quando a seguito di una modifica dell'ambito ecclesiastico i confini delle diocesi furono fatte coincidere con quelli della provincia e quindi seste levante fu aggregato alla diocesi di chiavari chiariamo un po le ragioni che nel 1519 convinsero l'arcivesco di genova giovanni maria sforza e il vescovo di brugnato filippo sauli allo scambio di parrocchie col quale quest'ultimo acquisì gran parte della plevania di seste levante come si legge nella relazione pastorale del vescovo nicolò leopoldo romellini compilata nel nel 1723 i vescovi erano costretti con una continua permanenza a soffrire l'infelice abitazione di brugnato per cui monsignor filippo sauli ottenne dalla santa sede il beneplacito di una permuta convenuta con l'arcivesco di genova da allora i vescovi di brugnato sono risieduti per la maggior parte dell'anno in sestri come luogo di marina e di miglioraria sebbene con maggiore spesa questo scrisse appunto il vescovo lomellini i fratelli remondini che sono appunto gli storici della diocesi genovese descrissero come iattura la perdita per genova della plevania di sestri che venne favorita dal particolare rapporto di amicizia che intercorreva tra l'arcivescovo di genova monsignor giovanni maria sforza e il vescovo di brugnato monsignor filippo sauli quest'ultimo infatti era diventato vescovo di brugnato nel 1512 ma in precedenza era stato vicario generale a genova e quindi in stretta collaborazione con il suo arcivescovo appunto lo sforza che governava l'artigiocesi dal 1498 esistendo quindi una grande relazione tra i due il vescovo di brugnato ebbe vita facile a perorare per sé e per i successivi vescovi la richiesta scrissero i remondini di avere un lembo di terra che compensasse in qualche modo la selvatichezza della sua piccola diocesi tutta serrata in valli e monti l'uno più alpestre dell'altro direi che con rincrescimento i remondini lamentarono che un milanese lo sforza appunto tolse una bella gemma territoriale alla diocesi nostra accettando l'alpestre valle di castiglione e con termini nove chiese in compenso delle 15 cedute alla diocesi di brugnato e poste in regione ceduta la mena pianura e litorale di sestri anche di presente e quindi siamo alla fine dell'ottocento se ne deplora la sconsigliata iattura allora i remondini chiusero il loro commento con una certa ironia osservando come l'acidescovo sforza non avesse subito alcun danno dall'operazione perché era morto poco dopo la permuta mentre sauli vescovo di brugnato che si era dimesso da rincarico nel 1528 ne pote godere appunto per due lustri vi ringrazio un caro saluto arrivederci alla prossima storia